Il Movimento 5 Stelle nasce per riprenderci la sovranità, a cominciare da quella monetaria. È il popolo italiano che deve decidere se restare o meno nell'euro. Ci bastano 50.000 firme per portare in Parlamento una proposta di legge costituzionale per indire un referendum consultivo sull'euro. Ma noi ne vogliamo prendere milioni. Il 13 dicembre tutti a firmare per il referendum sull'euro. Facciamo un regalo al nostro Paese. Il Natale si avvicina. Regaliamogli la sovranità monetaria. Fuori dall'euro.